Tu non sai nemmeno chi sono, vogliono me, viva o morta. So che stai per sposarti e so come mi fa sentire. Stai soltanto fingendo, siete tutti uguali. Non è vero. Sì lo siete. Non lo siamo. Ehi! Costa. Lei prima ha detto in conferenza stampa che non aveva mai fatto un ruolo proprio fisico. Invece questo film fa tante scene action quali. Perché non l'aveva mai fatto? Perché per pigrizia? Perché non glielo offrivano? Oppure finalmente... No perché io ho fatto molti film in cui c'era tanta azione fisica ma non il mio ruolo. Per esempio James Bond, cosa c'è più fisico di James Bond? Ma non c'erano ruoli fisici per me. Insomma mi sono ritrovata in Matrix per esempio, stessa cosa. Tutte scene d'azione intorno a me ma non il mio ruolo. Quindi diciamo che mi sono ritrovata a fare delle scene fisiche come donna adulta. Per un po' in certe situazioni ho avuto anche paura. Però l'energia di Mirko Sturizza è così trascinante e quindi mi ha permesso anche di fare cose in cui ho dimostrato a me stessa di avere molto più coraggio di quanto credessi. E con il Mirko Sturizza mi sono ritrovata nel suo mondo fino al punto di parlarne la lingua. E ho avuto la possibilità di conoscere questa terra. Questa terra che è fatta di bellezza ma anche di tristezza. E credo quindi che questa dualità cara a Sturizza fra realtà e fantasia è anche un modo per esorcizzare questa guerra che fa sempre da sottofondo poi alla fine all'atmosfera di film di Sturizza. Come con Sturizza anche David Lynch in questi ultimi giorni per promuovere il nuovo Twin Peaks di lei ha detto che l'apprezzo moltissimo come attrice perché è una donna bellissima ma soprattutto perché è una bella persona. Anche con Sturizza ha detto questo. Cosa fa questi registi per fargli dire è proprio una bella persona? È d'accordo oppure no? Non lo so però è bello. Se questo fa scrivere dei beruoli e mi fa essere la musa ispiratrice di talenti così grandi ben venga. Quindi devo dire che sono onorata il fatto che i registi così parlano in questo modo e Mirko Sturizza per quanto riguarda On the Milky Road sulla Via Lattea ha scritto questo ruolo di donna così bello e mi ha permesso di interpretare questo personaggio di donna così materna, così profonda, così pronta al sacrificio e capace di gesti estremi in attesi e anche questa fragilità un po' come una bambina. Quindi per scrivere un ruolo così si devono per forza conoscere le donne e amarle. Lei in questo ruolo è molto diversa rispetto a come l'abbiamo vista non solo nei film ma anche nei servizi fotografici, pure quando risponde per esempio adesso, sembra sempre in un mondo quasi ultraterreno un'icona, sembra sempre che ne sappia una più del diavolo e più di chi le sta parlando. Quindi quando lei si guarda allo specchio, guarda queste icone e dice sì, ok, sono io e ogni tanto ci pensa, ma chi è questa Monica Bellucci icona? Ogni tanto è ancora la ragazza, ombra? No, ma io non faccio proprio la differenza tra la persona e l'immagine. L'immagine è quello che proietti, con prezze stampe, copertine, film. Poi la persona è un'altra cosa, ci deve essere una differenza tra quello che fai e quello che sei, perché se tutto è la stessa cosa diventa una confusione che è destabilizzante e che non è sana. Io faccio il mio mestiere di attrice come le fa la giornalista e poi quando torno a casa ho una famiglia, ho una vita privata e sono una donna, semplicemente una donna. Però quando faccio un ruolo do vita a un personaggio e quindi creo qualcosa dalla realtà e mi ispiro, mi ispiro a delle donne che conosco o delle donne che immagino. E quindi quando faccio un film come questo, in fondo io vengo dalla provincia, quindi fare una donna che munge la vacca non è poi così lontano dalla mia realtà, perché io vengo dalla campagna in qualche modo. E quindi oggi faccio i tappeti rossi, però vengo dalla realtà della provincia. Quindi alla fine racconto non dei mondi extraterreni, ma... Questo è molto bello perché si ricollega anche al film in cui la terra, le cose semplici, diciamo, ci insegnano qualcosa. Secondo lei perché, come anche in questo film, quando c'è una qualità molto bella, molto spiccata in una persona, la bellezza, il talento, l'amore, come in questi due protagonisti, perché il mondo deve sempre dire non lo accetta, deve sempre dire sì, però? Perché? Penso che nella vita questo le sia successo molto. Perché sempre questo sì, però? Perché credo che tutto è contrasto, e il contrasto dà energia alla vita. Quindi è anche giusto che ognuno esprima l'opinione, c'è chi può dire una cosa e il suo contrario, e tutte e due sono vere, magari in domani diversi. Però ecco, l'importante è avere sempre una distanza da quello che si dice o da quello che dicono gli altri, l'importante è anche quello che pensi tu, di te stessa, no? Quindi un filo conduttore personale ci vuole, però bisogna anche ascoltare gli altri, perché molte volte gli altri hanno anche ragione. Hai dimenticato il latte! Grazie a tutti!